Ben trovati ragazzi con la seconda lezione dall'Iliade. Simone, sei pronto a riassumerci i fatti narrati la scorsa volta? Ehm, sì, dunque, la città di Troia è assediata da dieci anni, misticciano tutti per delle ragazze, il dio Apollo si infuria e inizia a far fuori gli Achei con la peste, Achille si infuria pure lui, sbatte la porta, la tenda e se ne va, muore un sacco di gente, si assembrano dei e uomini che combattono mischiati, Achille piange sul corpo del compagno Patroclo, rientra in battaglia, si vendica su Ettore e lo chilla, cioè lo fa fuori, si ritrova poi a piangere con il re Priamo, suo avversario sul corpo di Ettore, l'ira funesta è una tragedia, come sono andato? Approccio interessante Simone, il dono della sintesi ce l'hai di sicuro. Pensa, lo stesso Achille finisce male, quando egli subito dopo la morte di Patroclo espone alla madre, la ninfa Teti, il proposito di vendicarsi su Ettore, questa gli rivela che egli cadrà appunto subito dopo Ettore. Una versione del mito narra che una freccia guidata da Apollo va a conficcarsi nell'unico punto debole di Achille, il tallone, uccidendolo. Da qui la definizione di tallone di Achille. Il tallone da killer? Di Achille! Parliamo della figura dell'eroe Achille anche oltre l'Iliade, che come abbiamo visto termina con i funerali ed il compianto di Ettore. Secondo alcuni miti classici, la madre Teti aveva immerso da neonato Achille nel fiume Stige, rendendolo invulnerabile, tranne che nel tallone, l'unica parte per la quale lo teneva sospeso. Per tallone d'Achille si intende il punto debole. Achille è poi definito pie veloce, per indicare la sua rapidità nell'azione guerriera, fatta di colpi veloci contro il nemico, e Pelide. Perché era peloso? Pelide è un patronimico, cioè un appellativo derivato dal nome del padre, figlio di Peleo. Invece, Davide, puoi ricordarci il ruolo degli dèi nel racconto epico? Gli dèi si comportano come i comuni mortali, con simpatie e invidie, e scendono direttamente sul campo di battaglia, aiutando i loro protetti. Una battaglia tra dèi o che coinvolge delle divinità è detta teomachia. Molto bene. Si narra poi che senza più Achille la guerra di Troia continuò fino a che Ulisse, il condottiero acheo più astuto di tutti e che ritroveremo protagonista dell'Odissea, realizza uno stratagemma. Fabbricando un grosso cavallo di legno, fece credere ai troiani che l'esercito greco fosse ripartito, perché stanco e scoraggiato, in modo che gli abitanti della città abbattessero la guardia e accogliessero entro le mura della città l'immenso cavallo lasciato dai greci come trofeo per propiziarsi il viaggio di ritorno. Ulisse vi si nascose all'interno insieme ai suoi compagni e al calar delle tenebre, quando tutta la città dormiva, uscì dalla pancia del cavallo e aprì le porte di Troia all'esercito di Agamennone, che poté così conquistare la città. Questa narrazione non appartiene all'Iliade ed è solo citata nell'altro poema omerico, l'Odissea. Viene invece sviluppata nell'Eneide di Virgilio, poema latino che racconteremo prossimamente. Enea, principe troiano, lo riferisce infatti alla regina di Cartagine, Didone, in una delle tappe del viaggio che lo avrebbe portato infine sulle coste del Lazio, come capostipite delle genti che avrebbero fondato Roma. Roma! Ah lì! Grande questo Enea! Grande, sì! Il genere epico rappresenta una specie di memoria mitica ed è presente in forme diverse in quasi tutte le culture di cui abbiamo parlato, a partire dall'epopea di Gilgamesh in Mesopotamia, che risale addirittura al terzo millennio avanti Cristo. E nei secoli i miti continuano ad essere presenti e vivi. Possiamo citare ad esempio una versione moderna del mito del cavallo di Troia in chiave informatica. Infatti un Troian Horse, letteralmente cavallo di Troia, è definito come un programma apparentemente utile ma che contiene funzioni nascoste che gli permettono di attaccare il sistema a sua insaputa. Comunque ricordate ragazzi, l'Iliade e l'Odissea sono le opere fondamentali della letteratura greca e occidentale. I piccoli greci si avvicinavano alla lettura attraverso i poemi di Omero. Molto probabilmente i maestri semplificavano i poemi affinché fossero di più facile comprensione per i bambini. Un po' come abbiamo cercato di fare noi. Alla prossima!